Siamo a Merano e siamo pronti per portarti alla scoperta dei migliori mercatini di Natale dell'Alto Adige. Seguici! L'Alto Adige è una forte tradizione di mercatini di Natale, che ogni anno vengono allestiti nelle città e nei paesini, ciascuno con la propria peculiarità. Quelli di Merano sono tra i più importanti e si svolgono nella passeggiata a lungo passerio, in piazza dell'Arena e in piazza Terme. Negli scele in legno è possibile acquistare creazioni dell'artigiano autolocale, sorseggiare una tazza fumante di Vimbrulé e assaggiare prodotti tipici. A pochi chilometri da Merano, e precisamente a Lagundo, si trova l'antico Berificio Forza, che per le festività si trasforma in una foresta natalizia, in cui vivere per qualche ora, a volte in un ambiente magico, mangiando piatti tirolesi e sorseggiando la Christmas Bureau. Quello di Bolzano è secondo me uno dei mercatini più belli della regione. Si svolge sulla centralissima piazza Walter, all'ombra del Duomo, e tra le numerose casette in legno è praticamente impossibile tornarsene a casa a mani vuote. Ma tutta la città è avvolta nella magia del Natale e le decorazioni sono in ogni angolo. Anche la splendida Bressanone ha il suo mercatino di Natale, circondato da antichi edifici e dal Duomo di Santa Maria Assunta e San Cassiano, in grado di catapultarti di colpo in un'atmosfera d'altri tempi, fatta di luci, profumi, sapori e tradizioni. Quello di Vipiteno, a pochi chilometri dal confine astriaco, è piccolo ma grazioso. Si svolge in piazza città, proprio sotto alla Torre delle 12. Essendo piccolino, io ti consiglio di abbinarlo alla visita di quello di Brunico. Ma in Alto Adige ce ne sono tanti altri in grado di farti tornare bambino anche solo per un giorno. Buon Natale! Buon Natale! Grazie a tutti.